Bontà. Che cos'è la bontà? Commento. La bontà è l'abbandono della zona umana delle bassezze, dove la coscienza è rimasta per vite e vite esposta alle offese dell'egoismo. Un atto di bontà ha il potere di armonizzare l'alto e il basso dei rapporti umani. È una musica che annuncia l'abbandono della condizione umana.